M'ha impiantato un tralizio, un giardino, vedessi come l'è bellino Dal tralizio ci passa la corrente, quando piove frisce si sente, sente, sente La 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 la, sente, 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 la 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 M'ha impiantato un tralizio, un giardino, vedessi come l'è bellino Il progresso alle volte è un po' invadente, ma fa stare meglio la gente, gente, gente La 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 la, gente, 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 la 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 la, c'è 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 La 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 la, gente, si stava meglio prima, quando si stava peggio E c'erano i cavalli e non problemi di parcheggio Si stava meglio prima, e questo l'è sicuro Si stava meglio prima, non prendeteci per il culo Bene ragazzi ci siamo, è come ogni martedì che si rispetti il tralizio insieme a Gemelli Siamesi, Lorenzo Mea Meazzini e stasera per partire proprio una puntatona stratosferica il dottor Misuri, buonasera dottor Misuri Buonasera, buonasera, stasera voglio parlare di soldi Di soldi, ah, l'era partito proprio un tromba, pensavo la volesse parlare di... Di fila No, 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 di soldi Anche quello è un argomento importante Allora stasera il dottor Misuri vuole parlare di soldi, allora ci dica tutto Però aspetti un attimo dottor Misuri, la interrompo subito perché il nostro regista ci deve mettere la sigla appropriata per il dottor Misuri Ti propongo un affare, no? Si Tu mi dai 100 euro Io? Io te ne faccio vincere 60 e tu ti diverti Ah, cioè io gli do 100 euro, lei me ne fa vincere 60 e mi sono divertito Però ho spesso 20 euro Ho spesso 40 euro, Emiliano, 100 meno 60 fa 40 Eh, ma ti sei divertito Allora gli do, allora gli do Scusa, tu non pensi che sia un buon affare? Non pensi che sia un buon affare? Ma potrebbe essere anche un buon affare, però lei mi doveva dire Guardi Raul, per divertirsi mi deve dare 40 euro Io gli le davo No, 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 vedi, è un po' una bischerata, no? Lo so Ma c'è tanta gente, questa bischerata ci crede E cioè? Vedi, quando tu metti nella macchietta a mangiare soldi la lotteria, tu puoi vincere 60 euro Certo, certo Allora la cosa furba, se vinci 60 euro, capito, è di intrascarli e andare via Perché? Perché siccome il 40% se lo distribuiscono tra lo Stato, chi ha le macchinette e chi le ha fatte, capito? Se tu fai parecchio, a più di 60 tu non ci arrivi Ah, quindi è un calcolo matematico Non ci metto la matematica, perché ormai in matematica si sa il calcolo delle probabilità Ma il gioco non è equo Quindi se giochi una volta, allora se tu vinci 60 euro, ci sono 100 persone che ci hanno messo un euro E tu vinci a spesa di quelle 100 persone Quindi conviene giocare una volta, se si vince bene, se no si rimane a casa poi Esatto Ah, vedi, vedi la propria Allora, se tu metti un euro soltanto, sei uno dei bischieri che dà 60 centesimi a qualche euro a quello che lo vincerà Guarda, Emiliano, noi non ci si apisce nulla, ma questa ha detto una cosa veramente bella Ci siamo, siete tutti aggrappati al traliccio Ecco, rimanereci Ma stasera l'emozione ora ci prende L'emozione non ha voce L'emozione non ha voce? Perché? Perché dopo anni Perché ora c'è un personaggio Ma che non ce l'ha mai dato No, a parte quello Cioè, io non gliel'ho chiesto a te Io lo so Continuo, tutte le volte Va bene Anche la notte la chiamo e gli faccio Allora, per una decina d'anni Per una decina d'anni No, per Per una decina d'anni Per una decina d'anni è stata Ci ha sempre presentato lei Ci ha coccolato Ci ha voluto bene Ci ha coccolato, ci ha voluto bene Noi ne abbiamo approfittato spuderatamente L'abbiamo presa in giro sempre Lei ci ha preso per il Non è vero? Sì, 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 sì Va bene Stasera bisogna presentarla a noi Ma poi lei, ora lei è diventata un personaggio Noi siamo rimasti poi No, io davvero Un personaggio Vulcanico Guarda Vul Sì, sì, sì No vulvanico Vulcanico Emiliano Un personaggio Vulcanico Ma veramente vulcanico Io, io Guarda, mi rivolgo a tutti i direttori No, ma l'è meglio di no per lei Però Lascia fare, guarda No, voglio Si inguaia Si inguaia No, non la voglio inguaia Però voglio dire Ma una vulcanità così Una vulcanizzazione così Ma volete approfittarne per piacere? Ma gli volete da due colpi? Sì o no? Va bene Comunque se non ne approfittate voi Ci pensiamo noi Signore e signori Se ne approfittano Ecco noi stasera Serena Magnanensi Guarda che belletto Oh, finalmente Eccola Vieni, vieni approfittati Fino in me Fina rosa Io sono felice Di quelli che gli garba le poppe Ma guarda io non è che proprio Piccine Le poppe piccine Non mi garba Vabbè allora sì Come si chiama? Guarda sapete una cosa Dionisio Te e lei Sapete una cosa in comune? Che lei stasera è venuta da sola E anche te spesso vieni da sola Ultimamente No? Guarda, guarda, guarda Guarda le battute a doppio sacco Non le capisco Stiamo facendo dello spirito sulla disgrazia No, non è una disgrazia È che solamente dai No? No Stai facendo dello spirito sulla Ma dai Ma dai Allora Serena Buonasera A voi Buonasera Serena buona Buonasera Con la U Certo Dobbiamente Allora Noi si si segue veramente assiduamente Anzi proprio si prende Ma siamo degli stalker quasi Cioè noi proprio si seguiamo Tu sei una fucina di roba Davvero Sì Davvero Ecco per esempio Ora in questo momento Ma no scusa una cosa Ma questa intervista è seria o no? Porca miseria Allora Ma è una roba seria Se tu hai dei dubbi così Cioè proprio questa Io una settimana mi preparo Ah ok Dai allora ci sto Vai Però ti devo dire una cosa Sei l'unica Non sono andato su Wikipedia Si dice Wikipedia Non ci sono su Wikipedia Ah non c'è Non credo di no Penso di no Boh non lo so Ma però non ci sono andato Ma secondo me si Perché la gente ci si scrive da solo Davvero? Certo Io mi ci voglio scrivere Ecco perché non ci siamo nemmeno noi No Dobbiamo Uno ci scrive da solo Allora facciamo una cosa Da domani Se tu scrivi di noi Noi si scrive Ci sto Ci prova Va bene va bene Senti Serena Ma a parte tutto Ma ora cosa stai facendo di bello? Io adesso sto facendo uno Mattina estate Turututurututu Esatto Benissimo Sì alle 9.25 Il mio spazio Le 9.25 Di mattina purtroppo Sì anch'io l'ho capito dopo Che era di mattina Che aveva posto alle 21.25 Di solito alle 9.25 Sono a rimettere la miscela Ai decespugliatore Più o meno Fatto già due chilometri di serie Però non importa Perché sul Rai Replay Lo potete vedere Dal giorno dopo Cosa voi fate Brava No no Io ti seguo sempre Di fatti Serena Guarda A dimostrazione di questo A dimostrazione di questo Cosa faccio Allora Perché fa così così Ti seguo tantissimo Però No Siccome Ah sì sì Questo qui E questa è la cosa nostra Siccome io Prendo sempre le cose Migliori Da un punto di vista Anche insomma Di Folclore Di concetto Di dizione Di tutto Secondo me Secondo noi Questa era proprio La puntata Dove ci dovevamo essere Forse sì Allora Siccome È una cosa radiofonica Ma Siccome andiamo anche in televisione Sotto le regioni toscane Manderanno Sotto le regioni Sotto le regioni Sotto le regioni Manderanno il contributo video Sì Gli farò mandare Se possiamo Dicelo te Il contributo Tra l'altro Centomila persone L'hanno vista Migliaia 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 Centomila persone Quindi Insomma Lo vogliamo far sentire Anche a nostri radioascoltanti Io voglio sentire Quindi per un minuto Ragazzi Silenzio Parla la Serena Sì Però questo è un po' Da mandare in onda Col bollino rosso Perché non so se si può dire Allora La signora Gianna Gianna Mi tagli quel formaggio là Intanto Mentre Mauro ci dice una roba Che qui Lui non è originario di qui Però questo È un paese Che è famoso per tre cose Siamo a Borso del Grappa Si può dire Si può dire Però aspetta Prima prendo in mano Sennò si capisce male Allora È famoso per Le pipe I bocchini E il pisello Ok Io non sono nato qua Verde Verde Non c'è niente da ridere No no Io volevo diventare Alfiere di questo territorio Per questo è lo Ma non solo Allora voi dovete venire qua Perché qua c'è un'attività Di tutti i giorni Di molto intensa Signora La sagra del doppio Aspetta Aspetta Questo formaggio Mi racconto No no Senso unico Questo formaggio Come si chiama È il pincion 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 A cosa serve Così stagionato Serve Al posto del Viagra Ecco sì Un signore Deve mangiare questo Che poi vedrai Ecco cioè Il posto del Viagra È il formaggio Sì è il pincion Il pincion A casa una quinta lata Scrive Emiliano Pincion L'ho già Portato Me l'ha portata La Serena Cioè guarda Serena Qui secondo me Questo è stato L'apice Secondo me Allora questo era un caso Che no Era un caso Diciamo eclatante Però l'Italia è questa Perché quando vai nei paesi Non sai cosa trovi Il bello di questo lavoro È questo Ah noi una volta Siamo andati in un paese A fare gli nostri spettacoli Giustamente no C'erano i vigili Lui gli fa Che c'è gente stasera Come ti disse No mi dissero Gente poca Di morti i contadini È buona Però è bello Conoscere quest'Italia Qua Brava Volevo io approfondire Perché da gemellissimi Dobbiamo approfondire Quest'argomento Non ci possiamo limitare Solo ascoltare Allora Te ti trovavi in che paese Qui? Vicino a Bassano del Grappa Bassano del Grappa Che si trova In che regione? Perché io Strivo In Veneto Ma diciamo di Allora Se noi si dice L'Inveneto 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 No ma di Girare un pochino l'Italia Con i nostri sketch Per cercare di Di capire Se capivano Quello che dicevamo E sinceramente Li a Bassano del Grappa Sì Perché noi abbiamo trovato Delle difficoltà A spiegare cos'era La pipa Ma anche a Milano C'è toccato fargli fare No E ho preso uno E ho fatto un esempio No Quindi noi Con te Si capisce Dove possiamo andare A fare gli spettacoli Faccio da testa da riete Eh appunto Da testa da riete Però veramente Insomma Questa io la vedrei No diciamo che ci sono Dei paesi E dei popoli Più similari A noi Anche se parlano Un altro dialetto E tutto Però poi Alla fine C'è te tipo Sei lì In un dialetto Stato Eh qua Allora Toscano Ora qui andiamo Fuori dall'intervista Normale Perché ti voglio chiedere No perché questa Era l'intervista Normale No ma C'è tante cose serie Che ho fatto Avete preso Quella L'unica Dove andare A mezzo A bocchini Da come mi sto impegnando Mi stavo scendo Di sanguena Aspetta Voglio chiedere questa Alla Serena Questo video qui Era un video Fuori onda Io invece voglio Voglio chiederti Quali sono state Le reazioni invece Dei tuoi colleghi Perché l'avranno visto No no Allora mi hanno vietato Di metterlo sul Certo E quindi mi hanno detto Lo puoi mettere Solo sul tuo Però ci scommetto Allora Allora in chiaro Le pipe non si fanno In Rai No Si fanno streaming Però A parte tutto Serena Però secondo me Si sono divertite a bestia No ma I miei autori Si divertono Perché sono persone Come noi Sono normali Lo sa qual è il tuo vantaggio Che oltre a avere Questo lato qui C'hai anche il lato Che ti riesce Di dosare E quindi di portare Proprio la Serena Alla Rai E lei Il lato ci manca a noi E noi ci rimane Solo quello E ci dicono Non possiamo mandarlo In onda Noi siamo a questo livello Noi siamo Sciupa Sciupa Pellicole Praticamente Siamo rimasti A quel livello Ci manca Quella parte Siete bravi In piazza Siete bravissimi Artisti di piazza Fantastici In televisione Purtroppo Non la posizioni E noi ci si incazza Dov'è l'autore La testa di cazzo Vieni qua Giustamente È così La misura La misura Sì abbiamo Quest'unità di misura Un po' alta Forse Molto probabilmente Per i nostri maestri No ma come Anni e anni Di TVL Io non ho capito No mica loro Io ci avevo provato A portarvi a TVL In un posto No a TVL Eravamo bravi E insomma Ma come dai C'erano quattro vecchi Ridevano come matti Io mi ricordo Il giorno Che Fernando Ci tagliò il pezzo No no In un secondo Gli è venuta la pelli bianca Perché lui non ce l'aveva No no Prima era Quando però abbiamo fatto Il prete e la sora A TVL Gli è venuta la pelli bianca Lo ricordiamo tutti Ci disse Il pezzo in piazza funziona Qui però purtroppo No ci disse Bene avete finito Ok In televisione Non va Però rideva Va bene Ma Nando è un grande Adesso che si fa? No no Adesso che si fa? Ma via dove? Serena O dopo si chiama Le escort Tutte queste cose Ti puoi perdere Meglio di A parte questa Un'altra domanda seria Io ti vedo Ma dove erano Finora le domande serie? No questa Questa la faccio seria davvero Ma finora Cosa ha fatto di serio? Questa la fosse Ti vedo tutti i giorni Su un treno Eh beh Quello si Tutti i giorni Tu parli A te Praticamente Il famoso treno Che passa una volta Tutta sola Te lo prendi tutti i giorni Eh sì No perché andando in onda Il lunedì Mercoledì E venerdì I giorni Cioè martedì E giovedì Servono di spostamento Devi andare Quindi siamo sempre in viaggio Prossimo viaggio? Prossimo viaggio Marche Perugia E poi me ne vado a Napoli Ma che bellezza Noi una volta sola Siamo andati a Napoli Ci siamo persi No Napoli è una delle città Più belle No 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 noi ci siamo persi Perché si è preso il treno E siamo A Bologna Ma come possiamo Dalla parte di un posto Domanda la Raul Cosa? Mi sono distratto un attimo Perché c'è il regista Con i treni Come siamo messi No con i treni No è una cosa incredibile Lo sai davvero una volta Ma a parte se si racconta Ci siamo andati a Manfredonia E ci siamo ritrovati a Bologna No No perché è successo E noi una volta Non abbiamo fatto Un biglietto del treno Siamo andati Siamo arrivati a destinazione E la cosa che dovevamo fare Artistica È andata molto bene Quindi ci siamo detti Diventiamo scaramantici Non facciamo mai Certo Si è preso più multe Che rimborsi viaggio Quindi insomma Vabbè Cioè tipo usci davano 20 euro di rimborso viaggio Da Firenze a Budapest Perché noi siamo intelligentissimi Però la multa E ho 100 domande Immagina Vosti spettacoli a Budapest Immagina Guarda una volta Noi tedeschi e lungheresi Si sa benissimo E sono loro Non ci capisco Noi si sa Va bene Allora rimane ancora qui con noi Serena Purtroppo siccome stasera Ci costi veramente un botto Noi dobbiamo andare in pubblicità Perché? Perché il traliccio Noi abbiamo iniziato Sutte le regioni toscane E ancora in Viale Cadorna Sì Praticamente Sì Praticamente dal Montagni E dal Subabbo Che ci aveva le parabole Noi abbiamo iniziato Sutte le regioni Anzi no Prima sempre dal Montagni A Telecentro Toscana La televisione del Gattino Che non c'è più E ti sto parlando Dell'83 84 85 E poi siamo passati Promossi a Teleregione Che però promossi Ma allo studio Era la metà di questo camerino Però si faceva All'epoca Conti era magro Panariello era magro Io ero magro E ci si entrava tutti Si dovesse fare ora Non ci si entra più Per cui E per cui Grazie anche A Teleregione Stasera è un Revival Micidiale Ci manca solo qualcuna Che arrivi e dica Questa è tua figlia E poi finiamo Finiamo un bellezza La sera Praticamente Serena Vedi come funziona No Io sono qui Ma stiamo in diretta Perché non fai la persona seria Ma perché sono Voglio prendere un caffè Ma non si fa così A prendere il caffè Così È tutto Ma lo prendi ammazzato Non viene il caffè Non sei fonzi Capito Allora Serena Ci devi dire Quanto tu sogni Di fare un programma Tutto tuo E come sarebbe Sto programma Tu lo potessi fare Lo sogno tanto Sinceramente Oh vedi Sarebbe esattamente Come quello che ho fatto Lo scorso anno In giro per l'Italia Ah Ogni giorno In un posto diverso Sì è vero Mi ricordo Però eravate in tre Eravamo in tre Io in giro Poi c'era Federico Quaranta Che era su a Milano Perché era l'expo E era innaciampoli in studio Io quello vorrei fare Tanto volentieri Quest'anno Non lo rifate? Quest'anno non c'è proprio Quello spazio lì E una mattina finisce un po' prima E quindi Ci siamo adeguati Tu ru tu tu Io se tre volte Dici una mattina Faccio la sera Perché Pippo dorme E quindi no Però insomma Sono sostanzialmente contenta Di quello che faccio E certo Andarmi peggio Ecco Ma che scherzi Ti vuoi lavorare con voi E ogni tanto poi Ti vede anche tornare a TVL Sì 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 Ogni tanto si torna a TVL Primo amore non ti scorda A rimettere tutto insieme Il primo amore non ti scorda mai Balla che ti passa Una trasmissione Che tanto ci ha dato Perché non ci chiamano più Noi a TVL Perché dite troppe parolacce Ma quale parolacce Ma c'erano più bip Che battute Ma dai Ha ragione Ma non è vero Si diceva ogni tanto culo No no Guarda bene Se non mi mettete questa Mi alzo e me ne vado Una canzone giovanotti Una canzone giovanotti Noi la canzone giovanotti La mettiamo solamente Non si mettano più Perché cioè Il chitarrista non ci piace Invece mi piace un sacco Vedi un po' Vabbè salutiamolo Dai ciao Riccardo Riccardo Onori Grandissimo Grandissimo chitarrista Che tra l'altro So che è stato qua Certo Si ha divertito tantissimo Ma lo so Ha suonato la mia chitarra Io da qui giorno Non la suono più Ma sì Tanto guarda Come la suona lui Appunto ormai Si è abituato a quella maniera Io di fatto Non l'ho più Il problema è quello Dell'abitudine Se poi provi una chitarra Poi dopo un'altra chitarra No perché l'abitudine è importante Perché Emiliano dice Perché prova Suona sempre la stessa chitarra Poi un giorno La stessa chitarra Te la suona qualcun'altra Eh no Ma perché Ecco vedi Prima ti ho fatto la battuta Io questa Allora per me E che ho detto io Tu mi hai detto Me la voglian suonare Chi E Pippo regia Se la fai la mia moglie Senti Subito Non te la voglio la suonare Te la suona Va bene Insomma Allora Questa 1 mattina Ragazzi Guardatela Perché Quando c'è la serena La prende Sì perché Quando arriva la serena La prende tutta Una piega Ora ti faccio una domanda Delle televisioni regionali Ah il divertimento La spensieratezza Il divertimento Il non dover stare a combattere Con mille persone Con l'orologio Mi manca Tutto Perché lì Cioè voi siete Velocissimi Poi c'è No no Dovesti fare la domanda inversa Cosa ti manca allora Cioè nelle tv locali Allora cosa manca No no Cosa manca Perché non ci sei rimasta Visto il cielo No Ma manca soldi Esatto Quelli mancano I soldi I soldi I soldi per forza Ma ecco E quindi Cosa manca Alla tv Nazionale Per essere Realmente nazional Popolare La voglia di divertirsi Mancano persone Che lo fanno Per passione Per divertimento Puro E purtroppo Queste dinamiche Non ci sono più Ce ne sono rimasti pochi Ora non vorrei dire Il solito Carlo Conti Però insomma Carlo È uno che si diverte E si vede Perché fa divertire E si diverte Tanti sono un po' Degli impiegati Della televisione E un po' amici Di noi No Ci divertiamo A vedervi Perché vi divertite E quello è Quindi Purtroppo Ora ci sono troppe logiche Di potere Ma non in Rai Dico in generale Insomma Quando arrivi a livelli alti Un po' tipo un risico No Lo sai cosa c'è successo A me Emiliano Praticamente siamo andati A fare una serata Con Carlo Conti Grazie alla Vegastar Grazie alla Vegastar Si è fatto una serata E prima della serata Siccome Carlo è un professionista Come no? Ci ha chiesto Che scherzo facevano Allora innanzitutto Prima di trovare Carlo Ci ha detto Fernando ci ha detto E ci ha mandato Aspettare davanti a una porta Che non era È uscita una signora Che stava bello Perché io a Emiliano Gli ho detto Ha visto Emiliano Prima di aprire la porta Noi si sapeva Di là c'era Carlo Conti Perché Fernando ci ha detto Andate lì Bussate E va a aprire Carlo Conti Noi si è bussato Prima di bussare Ho preso lui E gli ho fatto Emiliano L'ha visto quando si dice Si chiude una porta E si apre un portone Ci siamo dai Si è bussato Si è bussato Dopo Il cuore in gola Il cuore in gola Si è aperto la porta Una vecchia C'era una vecchia Si è sbagliato porta Una vecchia Si è sbagliato porta Una vecchia ci ha batte Ci fa Buonasera Una cosa incredibile Abbiamo sbagliato E noi si è detto C'è da rifare il letto Allora il che è successo Praticamente poi Si è trovato Carlo Conti E lui ci ha detto Allora ragazzi Cosa fate stasera Questa era più Fernando Ma in televisione Era una cosa televisiva Ma che era la finale Di Miss Missità Miss Toscana Finale Miss Toscana L'unica volta Che non ci sono funzionati I microfoni Va bene Penso sia stato quello E ci ha salvato Praticamente ci ha detto Bene ragazzi Prima fate questo Che è uno sketch Senza parolacce Dopo poi potete dire Anche qualche parolaccia Lo sketch che non c'era parolacce Praticamente era un mimo Dove lui mi schiaccia il cigno Cosa è successo? C'è un cigno un po' pazzo Un po' pazzo Bella amore Lui mi schiaccia questo cigno Però schiacciandolo Gli vola nel pubblico Mi schiaccia Una signora prende questo volatile Lo tiene tra le mani E Emiliano cosa gli dice? Signora ci renda l'uccello Chiaramente A quel punto esce poi Carlo Conti Ma come? Ragazzi Vi ho detto di non dire E lui ha detto Gli renda l'uccello E c'ha un mano Praticamente Non ci ha più chiamato A questa cosa non ci credo Perché Carlo è il primo Che sa Dosare Dosare No Era bianco No vabbè Comunque Ci sono delle cose L'altra sera Sera con Leonardo E Raul è riuscito A ribaltare Tre Tre pinsimoni Non col pinsimoni Ma tu La ribaltavo Per raccattarlo La ribaltavo un altro Un altro E Leonardo ha detto Vabbè Tra l'altro mi è caduto Tre pinsimoni Due bicchieri di vino Il cameriere Da primo stava zitto Mi portava tutta la roba Puliva tutto Poi gli ha detto Ma il secondo bicchiere di vino Che buttava in terra E mi ha fatto Ma sei ubriaco E io gli ho fatto No perché non c'è perso di bello Mi nascava continuamente tutto Vabbè ma non parliamo di noi Parliamo della Serena Serena ma la prima volta Quando non si si portò I merli La prima volta No vabbè La prima volta della Serena È fantastica Io me lo ricordo Ah quando gli abbiamo portato I merli Io mi ricordo Quando gli abbiamo portato I merli Ma non è niente Si voleva fare la battuta Quando gli abbiamo portato I merli Te lo ricordo La signora mangia merli La signora mangia merli Sì me lo ricordo No per fare quei merli Stavo a mezza giornata Lui a mano Ti porta attacco Sì ma non parliamo di noi Parliamo di lei Ma era riferita a lei Cioè il discorso era Tre uccelli tutti insieme Te l'abbiamo a portare No E allora Ah cioè la domanda era questa Era una domanda interessante Era una domanda interessante No 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 Assolutamente no Mi stavo buono fino ad ora Ma io Scusa mi dici Parliamo di lei Io volevo parlare Della tua bravura Manualità Manualità Della tua manualità Parliamo della tua manualità Vi mettete insieme Sì ora ci si mette insieme Perché ci hanno dato noia a tutti Allora Buona Allora Ci avete dato noia Ci si mette insieme io e la Serena Sì Guarda che coppia si sarebbe Bellissima Guarda bronzati Guarda bello Guarda bello Ci vede fuori un cucciolo Ma è naturale Serena dove sei stata? Sono stata No per lavoro Sono stata Per lavoro È stata a farsi la lampada Ma per lavoro No 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 È solo è vero Avevo un matrimonio In zona marina Accidenti E picchiava È piovuto sempre Sulla marina a Calenzano Non c'è L'unico posto Non c'è una canzone Aspetta No l'unico posto Dove c'era il sole Era dove era lei Era una stagione di merda Visto si parla da bronzati Tu conosci molto bene Carlo Conti Un altro po' No ma sfatiamo questo mito Qual è il mito? Sono lampade O lei colore vero? Tutte e due Sono lampade Davvero? Tutte e due È il colore vero delle lampade? No Cioè che vuol dire Allora Carlo è di carnato Molto scuro Ogni tanto si fa qualche lampada Però è una lucertola C'è Carlo A mezzogiorno di agosto Sta a fare le scalette Tipo di mistostana Al sole E nessuno resiste Ah le scalette Quindi è uno che ci sta È uno che sta al sole Non patisce il sole È una lucertola Quindi è tutte e due D'inverno si fa qualche lampada È qualche Va bene Ho capito No però lo capisco Perché 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 io fai giardinieri Allora a mezzogiorno Mi può fare una lampada No ma ti posso dire questo Se guardi questa puntata di oggi E guardi invece una puntata di novembre Ma io sono più bello Alla decima volta Ma tutti siamo più belli abbronzati Che percorsi Perché mi si abbronzano l'occhiaio Però Serena Te sarai abituata a lavorare Con tutta gente Di serie A Quindi noi ti vogliamo mettere Sti cazzi Sti cazzi appunto Ma è possibile Allora ci sanno Queste cose Che di collegamenti Buonasera Maurizio Buonasera Buonasera Maurizio Schultz è morto da 15 anni Allora Maurizio Tu avrai tanti ospiti Avrai tanti ospiti Pronto? Sì pronto Maurizio Sono Maurizio Costanzo Chi sei? Sì no io sono Raul Io sono Raul Costanzo No no Costanzo no Sono Raul Ai ragazzi della radio Sì siamo noi Siamo noi che ogni tanto La disturbiamo Scusi Maurizio La disturbiamo Perché abbiamo Abbiamo la concessione Da parte di Maria Perché noi siamo amici di Maria Abbiamo la concessione di Maria Ecco sì Allora ecco Noi abbiamo la Serena Magnanessi Buonasera dottore Perché ride? Cosa c'è da ridere? Buonasera Buonasera Dottore Buonasera C'è un dottore? No no il dottore ha detto Costanzo si dice normalmente Senta Costanzo Noi abbiamo la Serena Magnanessi E dopo la presentiamo Oh l'ho lanciata io Allora la lanciata io Allora la lanciata io Una cosa importante Adesso non chiediamo Adesso abbiamo in studio Una ragazza Che si è fatta da sola Una ragazza brava No si è fatta di concerti Una ragazza forse Una ragazza Giovane Simpatica Brillante Eh? Serena Magnanessi Sì aspetta Aspetta Maurizio Maurizio No una cosa Scusi Maurizio Ti pario Aspetta Ti pario Aspetta 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 Allora l'intervista Adesso è in macchina Siccome la Serena È abituata a lavorare In Rai Lì accanto a lei C'è un presentatore Della Rai Che può presentarla E lei si trova Almeno si sente a casa Eh Un presentatore Rai Allora guardi Purtroppo c'è solo Amadeus No no Amadeus Sì ragazzi No 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 Aspetta Maurizio Ma adesso Il gioco della scossa Tutti insieme Maurizio Maurizio Lì accanto C'è qualcuno Ma sì Aveva a fare l'intervista E basta Accidentate No facciamo così Aspetta Emiliano Aspetta Ho capito dove vuoi arrivare No è lui Non capisco Ci deve dire Maurizio Ci deve dire Chi ha di ospiti Lei stasera A costi da lei Chi ci A gioco e covatta Gioco e covatta Aspetta Aspetta Ci arriva Arrivamo a corti No Arrivamo a corti Poi Poi No 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 Un conduttore Rai Aspetta Aspetta Gli lo dici Chi c'è poi Sì Ecco Ci siamo No no Del pieno Uno bravo Uno con una pronuncia impeccabile I tre tre Abbiamo i tre tre No Vaffanio No un altro Un altro Eccoci ci siamo Per la gioia dei vicini Abbiamo dopo No 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 Inizia Oll L Finisce Aspetta Aspetta Mi suonano Aspetta Che mi suonano Aspetta Sì Sì Chi è Eh A prova a quest'ora Deve arrivare Vabbè vai Passiamo Eccoci Pronto Sì Pronto Luca Luca Abbiamo qua una sua amica Sì Lo so perfettamente Abbiamo Serena La mia ragazza Che ho lanciato Praticamente Ho scopertuto Io grazie Alle nostre Conoscenze Della semantica Grande Serena Adesso ci devi parlare Però della comunione Di la figlia De Albano Vai Ho anche le foto Se vuole Dopo tanti anni Le vite in diretta Cioè Non c'ho più foto Con loro Dove stai Scusi Ma te non hai Non avevo la congiunta I video È a sciare No Ragazzi Oh ragazzi Oh Belle parole Oh ragazzi Ciao Sono Lorenzo Volevo dire una cosa Serena È una delle mie grandi fan No Sì E quindi Voglio dirle Che l'amo tantissimo Ma lo dice Perché L'ho scoperto Allora Era lui L'ho scoperto Però Però Gli ho scritto Questo pezzo Forza per lei Perché la Serena È magica La Serena È magica La 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 Eh ok Questa sbiolinata Grande Serena Grazie Grazie Allora Scusi Oh ragazzi Sì Mi puoi ripassare un attimo Luca Perché Sono Lorenzo No lo so che sei Lorenzo Volevo parlare con Luca Tanto Lorenzo Ci parla lei spesso Luca Luca Carbone Ma che No giurato Giurato Eccoci Ragazzi Allora Siamo qua Per pitti Immagine uovo A piazza della Repubblica No immagine uovo Ti puoi fermare un attimo Un attimo solo Allora siccome hai detto Serena Ma io la volevo far presentare Appunto Da lei Quindi saprà come si chiama Questa ragazza Dai La presenti lei degnamente Allora Su Allora In occasione di Pitti Immagine Uovo No uovo No uovo Abbiamo una grande sorpresa A Radio Rosè Una grandissima Serena Magna Kenzi Magna Kenzi Magna Kenzi Allora guarda I chiamelli Chiamelli Sì chiamelli Sì Sienesi Aspetti un attimo Luca Ma chi è questo fenomeno Volevo dire una cosa Ciao ragazzi Scusate sono No Ligabu ci sta sui coglioni No No Sono quell'altro Dozzanieri No È Dozzanieri Ciao Raffaello Ciao ragazzi Sono Raffaello No volevo salutare La Serena Che tra l'altro Ci siamo incontrati Nel 2008 Dove A Casciana Terme Ci ha anche premiato lei I Maneros Quindi sono veramente felice Di risentirla È il mea È il nostro mea Ma sono Lorenzo Meazzini Nel 2008 Ci ha premiato la Serena Al futuro no show Al futuro no show E poi non hanno più lavorato Io ero quello bello dei due Te lo immagini È quello che assomiglia Bravi Mamma mia Sono fenomeni Lui è quello che assomiglia a Barrichello Ok Allora Voi non sapete Voi non sapete Ma che invidioso C'hai una fronte pari a una cara Non sapete Allora dove sei Mea dove sei Devo iniziare Sono praticamente Io voglio sapere Perché Perché c'è la serata Per PTV Immagine Uomo Bimbo Sono qui con i Giamalo Trio A sorpresa Ci hanno chiamato E devo fare questa serata Bellissima Ora inizio a cantare No perché Perché Ma M'hanno detto C'è la congiuntività Aspetta perché Fitto perché loro non sanno L'ho avuto tutta la settimana L'ho avuto tutta la settimana Aspetta Io non l'ho fatto E Raul mi ha detto Non venire in radio Perché se no ce l'attacca Davvero Ciao Ciao ragazzi Allora io mi voglio agganciare Questi sono i mitatori I miei e i pratelli Aspetta Ma i pratelli Non mi toccate Davide Mi volevo agganciare Non mi toccate Davide Mi volevo agganciare Proprio a questa cosa Parlando di mitatori Perché so che state facendo Uno spettacolo Lo state portando in giro E volevo appunto Approfittarne per fare Comunque pubblicità Perché Davide È un nostro amico Insomma abbiamo lavorato Anche insieme Quindi voi state portando Uno spettacolo a giro Per la Toscana Che si chiama No allora voi Io non c'entro niente No come c'entro niente Io ti ho visto Io non c'entro niente Noi non ci chiamano mai David porta in giro Uno spettacolo molto bello Che si chiama Quello della via Gluck Che è un omaggio Adriano Celentano Ad essere pitoso In più ha uno spettacolo Con la grandissima Valeria Graci Che si chiama E risero felici e contenti Ah ma te l'avevo vista Anche te però Sulle foto Pensavo tu facessi parte No perché ogni tanto Facciamo delle serate Ma io insomma Da spettatrice Va bene Non ti buttare in te Allora guarda Serena Ora ci fermiamo un attimo Cioè più che fermarci Ti facciamo sentire Qualche cosa è particolare Perché Emiliano Ha inventato una rubrica Ha metto una rubrica Per far capire Che qui non c'è Due imbecilli Ah e quando arrivano Siamo tre Ma se Pippo Non viene a mettermi qui Sistemarmi il mixer Che io non lo so usare Questo Marchingegno Che c'è Quattro Pippoli Di quattro Non so Non so qual è il mio microfono Non so niente Insomma Comunque è una bella cosa Emiliano ci farà sentire Perché Serena Qual è Secondo te Il libro Il libro Il libro più bello Del mondo Cioè quello che Quando tutto il mondo Ti crolla addosso Ci sono dei momenti No Guarda Che dici Mamma mia Questo è È insuperabile Sì ora sì Anche troppo Andora leggi Ora è che Sembra il papa Leggi un libro Il libro più bello Del mondo Il più semplice Da leggere Ma anche più complesso Qual è insomma Il piccolo principe Oh qui Beh va vedi Io ho letto Le ore blitz E poi ho letto Ma si vede dall'occhiaio E purtroppo E allora c'è questa Questa rubrica Abbiamo inventato Questa rubrica Che non servono a niente Non è importante La guerra Fra le pecore E i fiori Non è più serio E più importante Delle addizioni Di un grosso signore rosso E se io conosco Un fiore unico al mondo Che non esiste Da nessuna parte Altro che nel mio pianeta E che una piccola pecora Può distruggerlo di colpo Così un mattino Senza rendersi conto Di quello che fa Non è importante questo Arrossì Poi riprese Se qualcuno ama un fiore Di cui esiste Un solo esemplare In milioni e milioni di stelle Questo basta A farlo felice Quando lo guarda E lui Si dice Il mio fiore È là In qualche luogo Ma se la piccola Mangia il fiore È come se per lui Tutto a un tratto Tutte le stelle Si spengessero E non è importante questo Non poter proseguire Scoppiò bruscamente In singhiozzi Era caduta la notte Avevo abbandonato I miei utensili Me ne infischiavo Del mio martello Del mio bullone Della sede E della morte Su di una stella Un pianeta Il mio La terra C'era un piccolo principe Da consolare Lo presi in braccio Lo cullai Gli dicevo Il fiore che tu ami Non è in pericolo Disegnerò una museruola Per la tua pecora E una corazza Per il tuo fiore Non sapevo bene Che cosa dirgli Mi sentivo molto maldestro Non sapevo come toccarlo Come raggiungerlo Il paese delle lacrime È così misterioso Un programma in collaborazione con Che no comunque Corvino Ce l'abbiamo in telefono Pronto? Come? Pronto? Sì pronto Direttore È veramente Mi aspettavo Come vi sentite E sono contento Di essere tornato A casa Volevo dire A Piaggianto Racci Che studiore Non è Piaggianto Racci È Alessandro Manino Piaggianto Racci Alessandro Canino Alessandro Canino Eh direttore Ci si Si è parlato anche delle volte Io e lei In passato Non si rivolta più Lo so Siamo andati a mangiare Le bistecche insieme Eh si rivolta sempre a mangiare Comunque Che arriva la carbonara Aspetta Ma perché? Ristorante Direttore Eh Papa Vai a attimo a prendere La carbonara Come papa? Che manda a pagare A mandare Ma quindi è a mangiare Un babacare? Ma va via o rimane? Ti vengono a Cristal Palace Ti vengono a Cristal Palace Un programma in collaborazione con Appunto che Corvino Vuole appunto questa garanzia Cioè quello Quella Cioè che lui deve Decidere E deve avere assolutamente Autonomia Nella gestione I giocatori Perché lui vuole subito Una cosa diretta No? E ricordiamo Volevo anche dire Che per quanto riguarda Le sorti di Gli Aici E Arrivederci Io la vedo già tremolante Nella serie Gli Aici Su TNV Radio Che Insomma è la radio ufficiale Di tutto il mercato web Siamo partiti circa due mesi fa E ogni venerdì Facciamo la nostra trasmissione Ci siamo in studio Io e Pietro Lazzerini Di Firenze Viola.it Che si chiama Garris Calvento E dal domani Avremo il piacere Di Di andare Anche in televisione Verrà registrato Con delle inquadrature Molto molto personali E carine L'ho già vista Abbiamo fatto una prova E All'una La prendiamo E poi le mandiamo Alle tre Io Voglio Parlare ora Con i tifosi Voglio tranquillizzarli Voglio Dire che per me La Fiorentina È importante Per me È una squadra Che dà il cuore Una squadra Alla quale Io tengo molto Una squadra Per la quale Farò sicuramente Dei cambiamenti Farò degli acquisti Ho parlato Già con Andrea Già mi sono dato Alle pazze spese Ho comprato Ho fatto un ultimo acquisto Ho comprato 500 nuovi palloni Per i giocatori Per Per far sì Che Che possano Allenarsi al meglio Qui non si può dire Che non sono Uno che si impegna Ho già preparato Un'ordine Per un nuovo acquisto Abbiamo un acquisto Che arriverà Stagione nuova Un acquisto Importante Ho comprato Dei tappetini Da mettere Fuori le docce In modo che I giocatori Quando escono Non mettono Il piede in terra E quindi Si prendono Un raffreddore Per me La salute Del giocatore È importante Viola 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 Comunque Dai Serena Parliamo del nostro Del nostro Sì Intervista Cioè Approfittiamo Rao Ci sa Una conduttrice Della Rai Ma ci facciamo Intervistare Una volta noi Ma io Le domande Non so rispondere Dai No la domanda seria Che volevo fare È La premessa era Per far vedere Che non siamo Due imbecilli Lui ha letto Il piccolo principe Che fai Ah no no Io No veramente Allora Nell'arco Sì è vero Allora Nell'arco dell'anno Ho fatto tantissime cose Due o tre rubrie Proprio aperte Mia Proprio Prova belle Ora purtroppo Non ti possiamo Farsi in trinente Cosa facevo io Di intelligente La cosa più intelligente Che ho fatto Ho preso Le canzoni straniere Di moda Di moda A bestia Tipo Ti posso fare un piccolo esempio E mettevo il testo su Ti posso fare un piccolo esempio Google Su Google traduttore Cioè ti rendi conto E traducevo le canzoni Perché non ci chiamano Rai Perché non capisci un canto Google Air Tu cosa scende No ho sbagliato C'è tutte le applicazioni Allora Serena devi sapere Io ho anche l'applicazione No perché lui non sa Che oggigiorno I ragazzi giovani C'hanno l'applicazione Vanno a matematica C'hanno l'app matematica Vanno a italiano App italiano Te cosa ne vuoi sapere C'hai l'app Io ho l'appuntana Io ho l'appuntana Va bene Questa è una battuta Di spunto C'ho l'appuntana E beh L'appuntana segnalo Perché mi piace Eh lo so Sei già segnato Va bene E praticamente Serena Ho fatto queste traduzioni Di queste canzoni Purtroppo ora non le possiamo sentire Perché Ma poi non abbiamo la chitarra Con la chitarra le faccio Ma tipo Ti faccio un esempio Tipo Stun Pum Il battito di core Stun Pum Che sarebbe quella Di quelle ragazzine Che fanno Pum Clap Capito L'ho rifatta Tutte in toscano Che è successo? No niente Se vuoi la telefonare A una persona Ma ne dormi Va bene Sta dormendo Praticamente Questa è una rubrica Che ho fatto io Poi un'altra E potresti sentire ora Ma il nostro regista Non sarà tanto sveglio Un'altra Che ho fatto io È che È che Prova Provaci Prendo un po' di tempo Ho fatto una rubrica Inventata da me stesimo È bella Poi ve la facciamo fare Stasera Sì Non è che spiccano Qui le mie qualità vocali Però praticamente cosa ho fatto Tutte le radio fanno sentire La musica Come Giovannotti Tutte le hit italiane Io invece cosa faccio Vado a giro per il mondo Nei posti più sperduti Di tutto il mondo A cercare le prime Rassificate Del mondo Per esempio Se tu viaggiassi Non lo so E ti trovassi In questo momento In vacanza In un posto Straniero Vedi come mi tocca Allungare il brodo In un posto straniero Senti come sto allungare il brodo Il sedano Poi ci metti il sedano Le pomodoro Poi ci metti un po' di sabato Un pizzico di sale Ora perché le colpa Di il nostro regista Però ho fatto questa rubria Qui dove faccio sentire Le hit A livello mondiale È molto E questo è divertente E questo è divertente Ma non è intelligente Ma nessuno Aspettava una cosa intelligente Poi non fate anche altro Ora non sto qui Ha detto Ma parliamo di te Parliamo di te No Deve intervistarci Ah vabbè Io voglio un'intervista Io vorrei Un'intervista Alla Serena Un'intervista Fatta bene No io allora Come intervista fatta bene Io vorrei sapere da voi Visto che adesso è di nuovo Il momento Dei grandi show Comici Da Made in Sud Eccezionale Veramente Eccetera Perché Ci hanno chiamato Siamo andati ora a fare Lo dio io Ci hanno Ci hanno chiamato Avevamo superato Tutti i provini Per andare a fare Il programma Eccezionale Veramente Con le palo ruffini Con poco Sei litigato con tutti Sì Perché Però io a tal proposito Se ce la faccio Riuscirò a farcela A fare cosa? È una sorpresa Domani ho già fissato Con un regista E devo preparare Una situazione Ma a voi Ma a voi Seriamente Perché voi fate sempre I cazzoni Così eccetera Ma cosa piacerebbe fare? A noi piacerebbe fare Il nostro film Serena Noi l'abbiamo già scritto Fra l'altro No sì L'obiettivo finale È quello del film L'obiettivo finale È il nostro film Però anche tornare un po' In televisione Quello sia Che ci vuole Però per tornare in televisione Bisogna stare le regole Della televisione Non potete arrivare Nelle televisioni E inventare voi le regole E riscriverle Brava Ma lo sai Ma lo sai C'erano gli autori veri Sì sì Noi non abbiamo mai lavorato Che ci hanno arrotondato Le nostre cose Per eccesso Comunque parli di un programma Che in realtà Non era un programma Cioè perché ha sovvertito Tutte le regole Del programma Non ci riesce A noi in Moni Ci ha detto Se vi fanno fare Il che vi pare Andate Se no state in piazza Però Serena Ieri sera Io ho visto un programma Impreso a Piazza Che si chiama Nemico pubblico Noi Allora Io ti vorrei Far andare a sentire I monologhi Che fa Gianni Marandini Morandini E che vuol dire Ah se lo Questo li devi sentire Perché è politicamente scorretto Ma non politicamente scorretto Ma noi non siamo Politicamente scorretti Noi politicamente Siamo anche corretti E che si dice troppe parolari Sì Ma tu le dici te A me mi sembra a me Ma tu me le suggerisci te No Io no Vabbè insomma Ci sarà un motivo No Serena Forse magari tu lo sai No ed è un vero peccato Ma ormai siamo vecchi Ma no no Non è vero Non è vero Vabbè Bisognerebbe trovare qualcuno Che ci addirizza No Bisognerebbe cercare qualcuno E dice se mi denunciano Non importa Però non c'è Non c'è Comunque no È così Noi a un certo punto Nella nostra carriera Noi abbiamo deciso Che la piazza è il casa nostra E vabbè Che mi sembra di livello Guarda c'è una cosa bella Che ti voglio raccontare Quando è morto Carlo Monni Poi venne Benigni Al funerale Benigni disse una cosa bellissima Ma non fuori dal Diciamo Dietro le quinte Fra virgolette Perché il funerale del Monni Era uno spettacolo Era una cosa bella Esagerata E disse Vedi Io ero lì Ci parlavo Vedi Allora La differenza fra Fama e successo Io ho fama Carlo Ha successo Perché Carlo Aveva un popolo intorno Ecco il nostro sogno Il problema è che questa distinzione La fanno su tutti quelli Che hanno No vabbè Ma caro Eh no Invece è così E' come quelli che dicono Ma che ti importa Se sei sul Rai 1 Piuttosto che Tele No Ma noi ci si lascia Quelli che stanno Eh no Non è vero Raccontarcela Non sono No no Te lo dico una cosa io C'è successo una cosa Che praticamente Siccome noi siamo un po' così Un cigano Gli autori Gli autori Ci vogliono Mandare in pasto Facendoci fare Questa figura qui Non è che ci aiutano A dire Fate arrotondato un po' Guarda che è eccezionale Veramente Ci sono tanti comici Che sono stati raddrizzati Ma sono bravi Gente brava Gli è stato tolto Delle battute pesanti Per andare in onda E questo va bene Invece a noi ci succede il contrario A noi ci dicono Andate pesi E poi non vi si manda in onda E' quella la cosa Va bene Un discorso Lo poteva fare Un Carlo Monni Perché effettivamente Aveva successo E non gli rodeva Perché la maggior parte Di quelli Che non riescono A andare oltre Gli rode un sacco E si inventano Delle scuse Invece bisogna avere La serenità d'animo Di dire Io faccio questo E per farlo bene Devo farlo qua Ma c'è speranza per noi Sì Ma nemmeno C'è speranza per tutti Ma quale speranza Puoi che ci sia Per noi Non lo so Non rompere i coglioni Con la pubblicità Vedi 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 Lo vedi Puoi andare a Radio DJ Come fai Ho capito Mi rompe i coglioni Che gli devo dire Allora E' così Si fa la radio piazza Guarda giuro La pubblicità Vengo di là Pippo ti spacco gli occhiali Ti spacco Gli occhialetti Siamo a noi stasera La Serena Serena Magnanetti Serena Magnanetti Direttamente da Rai 1 Ti vuole Ero distratta Ah sì Dalla Rai Ti stanno dicendo Vieni via Io pensavo ti messaggiassero Messaggi molto importanti Più importanti di voi Dalla Rai Dalla Rai Dalla Rau No vabbè Perché a me non mi manda nessuno messaggio Ma Noi abbiamo anche altri ospiti E un ospite musicale D'eccezione È venuta anche da noi Una volta Ormai è passato già Qualche mese La rinvitiamo Da noi Vieni Prima possibile Questo è un fenomeno È uno dei fenomeni Dell'underground Diciamo Che piano piano Però sta emergendo Sì Altro è piano piano Una delle voci Più 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 Albon Monte Io sono da vedere L'Arianna Io all'Arianna Gli voglio bene Arianna Antinori È qui con noi Arianna ci sei? Sì ragazzi Scusa l'ora Ti chiamate l'ora del mezzo Poi ci siamo scordati Perché qui praticamente Ci portano il vino Noi lo beviamo E passano minuti Passano minuti Passano minuti Ma non c'è problema Allora Arianna Io oggi ero a mangiare Al Lavacchio Un posto bellissimo Sì sono andato su A girare Fattoria di Lavacchio Alla fattoria di Lavacchio Sì sono andato su A girare una cosa bellissima Dentro il mulino a vento Sul piccolo principe In realtà girare Dentro il mulino a vento Era una cosa Cioè Girava tutto Il mulino a vento Girava da una parte Girava da quell'altra Insieme ad Aroxi Insieme a Quelli di Teleregione E poi mi hanno detto E mi hanno detto Ma lo sai che viene Una cantante bravissima Ma Arianna Antinori Sarà qui da noi E io ho fatto A Arianna La chiamo solido E infatti Arianna Il 21 di giugno Sì Sarà proprio Alla fattoria di Lavacchio Al festival Vicino Vicino a Pontassieve Firenze Se tu sai proprio La località precisa Dilla Emiliano Non ti peritare Pontassieve 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 Ho detto bene Allora Fattoria di Lavacchio Ragazzi è veramente No Posto bellissimo Posto bellissimo Una location esagerata Ha rammentato un mulino Che tra l'altro È un mulino a vento Funzionante Leonardiano L'unico in Toscana O il secondo in Toscana Sì ma poi La partitorialità di quel mulino È che è un mulino Leonardiano Cioè hanno preso Un progetto di Leonardo E hanno rifatto Il mulino a vento di Leonardo Bellissimo Bellissimo E lì si ci sarà A questo festival Della musica Rock the wine Rock the wine Bellissimo Il rock di vino Sì 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 Perché alla fattoria Della vacca Vai anche te Emiliano Noi abbiamo È martedì E quindi noi abbiamo La radio Però il pomeriggio Il pomeriggio Io vado a Vado a trovare Intanto tu fai wine E loro vanno a fai rock Va bene Ora c'è questa diceria Che io bevo Senti Arianna Insieme a noi Stasera c'è come Ha sentito Serena Magnanensi L'ha sentito no? Ecco Evi ma io vi sto guardando Ah addirittura Stai guardando lei Perché noi siamo Non ci riesce Noi si mette Su una cosa bella da vedere Perché se ce lo girano A noi Ma non siamo brutti noi A questo telefono Storce Storce E l'altrove a Pistoia E altri E insomma è davvero È un fenomeno Lo dico Grazie Non sapevo che Ti stavano per chiamare No dal vivo Dal vivo Arianna È una che si sta Beh ragazzi Colgo l'occasione Allora di invitarvi Giovedì 18 All'altrove Perché sono anche lì Sei da tutte le parti Ormai hai conquistato la Toscana Eh va bene Sei partita piano piano Da San Tomato Live Poi dopo ti stai allargando In Toscana Sono felicissimo di questa cosa Perché comunque mancano Manca in Toscana Manca qualcuno Che faccia Musica Che faccia musica live Di qualità E te sei veramente brava In realtà mancano le persone Che danno la possibilità Di emergere Perché gli artisti bravi Giusto Arianna Ce ne sono tantissimi Soprattutto in Toscana Però si fa partita E l'Arianna è una Che non molla mai Io l'ho vista dimagrire Un paio di chili Quanti chili perdi Se hai a concerto Dile la verità Mi sono pensato una volta E mi sono perso Due e mezzo Cioè due chili e mezzo Invece di andare a fare step Se glielo dica Inizia la valla E comincia a fare la cantante Però devi cantare Le canzoni dell'Arianna E' come le canta lei E' come le canta lei Ecco ma questa voce Arianna Questa voce Come fai a mantenerla così Bisogna fumare a bestia Che bisogna fare Ma che fumare La fuma Sì diciamo che le sigarette Aiutano La vedi Però Però No 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 scherzo naturalmente Eh certo Eh tra l'altro Tra poco ti sentiremo anche Perché mettiamo un tuo brano Bene Ma ora C'hai questa data Il 21 Il 18 Poi cosa stai facendo di bello Allora Vabbè poi no Un altro Il venerdì 27 L'argentario Orbetello Per il ragionno Kawasaki Una cosa stessa Bello 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 E poi Beh Quest'estate giriamo Andiamo a Matera Giriamo Un bel po' Però Siamo molto concentrati Per fare il nuovo disco Io sono felice Bene Senti Arianna Sono felice per Arianna Perché fra l'altro Ora Ora vabbè Io e Arianna Siamo mezzi parenti Addirittura Sì Io penso che comunque Il successo sia sempre Io sono felicissima Ad oggi Sono felicissima Di tutto quello Che ho conquistato Perché appunto L'ho fatto Da sola E quindi Sì sì Ogni Sono molto felice Senti Arianna Scusi Io una volta Sono andato a vederla A casa sua Sua Vicenza Bene In un locale Sì C'è un delirio Ma però Gli vogliono bene Certo Eh va bene Le vogliono bene Ma nel mio E certo Non è scontato Che la gente Voglia bene A un artista E invece lei Si sa far voler bene E a me questa cosa Mi piace tantissimo Siccome a noi Ci fa piacere Farla conoscere Anche a chi appunto Ancora non l'ha mai ascoltata Io voglio Voglio chiederti Come si fa Bisogna andare Sul Facebook Su Youtube C'hai qualche brano tuo Mi dici come Cioè come dobbiamo fare Ma lo vuoi mettere adesso? Allora innanzitutto Dici per cercare te Come facciamo Su Facebook Hai la pagina tua Arianna Antinori Poi hai un sito anche Certo Arianna Antinori Punto com Punto com Poi c'è Youtube Che proprio c'è il mio canale Che quindi vedete anche Tutti i video live Del Pistoglio Blues Che ho fatto l'anno scorso Allora voglio fare Vorrei fare un esperimento Sì Facciamo questo esperimento Allora perché mi piace sta cosa Arianna Arianna è una che comunque A cappella sa cantare Veramente bene Mi fai un pezzettino Di Mercedes Un pezzettino Per chiuso la febbre Sì un pezzettino Con la febbre Ora non ti sforza troppo No no Lascia Vabbè un pezzetto Facci il cofano Il cofano della Mercedes No che cofano No vabbè un pezzetto Zitti Zitti Sentiamo Zitti Silenzio Va vai Vabbè un pezzetto Vabbè un pezzetto Bellissimo Bellissimo Guarda la differenza Tra me e voi È che i miei cervelli È andato oltre E ho pensato Lei ha cantato Da 30 secondi Un concerto Dura un'ora e mezzo Ho fatto la divisione Se l'eura va a pesarsi Ha perso 50 grammi Secondo me Io ho un compagno Intelligente Ho fatto il calcolo Ma che siete spregati Sì siamo spregati Noi dovevamo fare i dietisti O i nutrizionisti Qualcosa del genere Bene Arianna Noi ti invitiamo A venire qui a trovarci E siccome c'è la febbre Non ti vogliamo disturbare più Non cantare Non ci fa sentire più nulla Perché se hai la febbre Ti devi preservare Ah fra l'altro Fra l'altro Ti saluta tua mamma Che io ho visto ieri l'altro Ah 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 Ora forse No questa No ma anche il tono Della voce ha sentito Ti saluto tua mamma Ma perché che vuol dire Ma lei secondo te Da ieri l'altro Avrà sentita la sua mamma Ma no Non gli telefona mai Era una merda Aspetta scusate Scusate Non devo fare una cosa in diretta Sì? Cos'è? Ah sì sì Glielo dico Vabbè No è la tua mamma Ti saluta Ma la mamma di La tua ma Emiliano No è arrivato Si sta lavorando Perché ora Questa è importantissima Perché qui ora noi Siamo a Radio Studio Radio 24 Sì va bene C'è queste cose Matti lei vi dai Cosa intelligente Allora Ricordiamo 21 giugno Rock the wine Senti bello Rock the wine Il rock del vino Sì Dove a Pontassieve Alla fattoria di Lavacchio Andate a sentire Arianna Antinori Andate perché è veramente 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 brava A periscena A 10 euro Concerto e a periscena Tutto accessoriato Davvero Tutto accessoriato Andate ragazzi Andate Grazie Arianna Grazie Arianna Ciao Ciao Un bacio Ultimi venti minuti Il traliccio Questo programma Stratosferico ragazzi E sta avvolgendo un po' Alla fine Perché fine stagione Siamo a giugno E a fine giugno Non ne possiamo Non ne possiamo Più Va bene dai Siamo stanchi Si sa che poi c'è l'estate Ci sono tante serate Siamo stanchi marci Tutti i martedì Si viene qua Facciamoci un attimo di pubblicità Cosa vuol dire Questa settimana Ah un po' di serata Questa settimana Giovedì 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 Sono a Prato Allo Smile Park Ah ricordiamo Lo Smile Park Una cosa molto importante Smile Park Sì dove Daniele Bonino E Beppe Balasso Bello E Beppe Balasso Hanno organizzato Questa cosa bellissima Sì Questo parco eccezionale Dove ci saranno giochi Per bambini Intrattenimenti Mangiare Un po' di tutto Venite Venite Questo è giovedì Giovedì 16 Poi venerdì Dicias Venerdì 17 Perché mi ha levato il mio telefono Venerdì 17 Ma il 18 Scusa io il 18 Siamo a Montale Aspetta Mi non sto andando più in gradi A Montale cosa? Non siamo a Montale Uno scaffale Siamo a Montale La località Siamo a Montale Siamo a Montale Di preciso non so dove Seguiteci su Facebook Il 18 siamo alla Notte Bianca Di Quarra Non ci vengo Io voglio andare alla Salsicciata Quindi tre date in fila Poi ci riposiamo domenica E lunedì invece Saremo a Calenzano Dai nostri amici In piazza Cioè mi avete fatto interrompere Una telefonata di grandissima importanza Per sentire la marchetta Delle vostre date No vabbè la dovevo fare Perché per riempire il vuoto Perché non stavi arrivando Eh vabbè Quindi dovevamo riempire un vuoto Un vuoto? No vabbè Allora io voglio riempire questa cosa Ancora ancora Altre serate No non voglio riempire niente Dai voglio fare un omaggio Sì o giugno No Ora? Sì ora Faccio ora veloce Tanto è una cosa piccolina Noi lo sai con Carlo Sì Eravamo amici Poco tempo fa Ah sì Era la ricorrenza Della scomparsa di Carlo Se lui mi leva Quella roba Io lo voglio fare questa cosa Che secondo me ci porta bene Ma ora? Sì lo faccio ora Sta a vedere Va bene Era sempre un opportuno no? Va bene Carlo Bolli Sì Noi siamo quella razza Che non sta troppo bene Che di giorno sarta fossi E la sera le cene Lo posso gridare forte Fino a diventare fioco Noi siamo quella razza Che tromba tanto fuoco Noi siamo quella razza Che ai cinema si intasa Per vedere donne nude E farsi sega a casa Eppure la natura ci insegna Sia su monti Sia a valle Che si ponnasce bruchi Per diventare farfalle Ecco Noi siamo quella razza Che le è fra le più strane Che bruchi siamo nati E bruchi se rimane Quella razza siamo noi Gli inutili fa finta Ci ha trombato la miseria E siamo rimasti incinta Bello 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 È un ricordo per Carlo È un ricordo per Carlo E perché comunque Insomma Carlo Si voleva bene Sia io che te Che anche la Serena Ma c'è chi E anche Mister X Che di qua Ancora non abbiamo Guardato Non si può Guardare Dai ma non ci intristiamo Ma che intristirsi Poi una nota triste Ma che nota triste Ma quando uno muore Non si sa di essere triste No Vabbè ma è morto Carlo Moni Allegri Emiliano però Quando fa queste cose È bravo Diciamolo Insomma sei bravo No vabbè son bravo Bisognerebbe facer No sei bravo Bisognerebbe facer Bisognerebbe facer No non è che sono bravo È che noi con Carlo Abbiamo sentito recitarlo Molte volte E quindi uno apprende Però ora Questa è la rubrica successiva Io ritorno fuori No 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 Questa interessa anche A proposito di farsi Sega a casa Come diceva Carlo Moni Noi abbiamo questa rubrica Interessantissima Che ha una sua colonna sonora Tra cinque minuti Tra cinque perché Però con la Serena Dobbiamo farla soft Perché se no capito Io potrei anche salutare No 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 E guadagnare l'uscita Allora guarda Emiliano mi fa fare Una persona seria Di base Facciamo una cosa Cioè questa cosa Rendiamola soft Per una sera Proviamo 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 Però la prima signorina Posso parlarci io Io la so Ci può parlare a te Ci può parlare a te No no C'è anche i ragazzi eh No 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 Per carità Se può provare No 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 Grazie Ma sono bravi Ma lo sai c'è uno Anche lavora a Italia 1 Che è qui Guarda Che fai davvero eh Aspetta chi è? Sì buonasera ciao Ah questo è William Il fratello di Sono William Gray Il fratello di 50 Sì è 51 Eh vabbè Buonasera Ho saputo che c'è La Serena Magionella Sì però Io Questo troverà Mi piace Facciamo la nostra soft Qua è soft Sì Chiamo Pucci Pucci No No Vuoi No Io no Io no Ho la mia donna Che si chiama Pucci Pucci Ciao Serena Ciao Non la facciamo chiamare Perché guarda No ma non farei proprio Questa cosa No perché Emiliano Senti da rendere conto Stasera forse C'è qualche dirigente Rai Siccome c'è la Serena Ci sta guardando Ma speriamo di no Però Onestamente E quindi se ci sta guardando Dobbiamo rendere tutta la cosa Da Rai 1 Ok allora chiamo Pucci Pucci No Amore mio Va bene Bene Amore mio sì Pucci Pucci puoi venire Quasi Pronto Pucci Pronto Vedi non viene Eh non viene Non mi mando chiamare Perché la donna moderna No La donna moderna Che sta confondendo L'emancipazione Con l'egoismo E quindi E quindi egoista E non viene Porca mia E quindi vuole E quindi E quindi la chiamo No Io andrei via Pucci Pucci Anch'io Sinceramente anch'io Vieni Pucci Pucci No Bru Ascolta Aspetta Fermi tutti Allora No Non viene Pucci Pucci Guarda Comunque io ho fatto un grande errore Due Primo accettare di venire qua E il secondo di dire alla gente Guardate E il quarto è Due errori Che sinceramente Il quarto è continuare a stare qua Cioè potevi andare via Ragazzi Il traliccio Siamo arrivati alla conclusione del programma Ma prima c'è questa rubrica eccezionale Che è la rubrica Delle donna No Dai Dai Allora Se il regista ce la fa Fa partire la base Perché ora noi Si chiama le maya Si chiama le maya Si chiama E soft Si chiama le maya Si chiama le maya E poi dice Perché non mi prendo No vabbè Crescente Ma questa è una rubrica Si può fare soltanto qui Allora Serena Sarai partecipe di questa rubrica Ora noi sceglieremo Una Signorina Io Io voglio Mi sento mancare Cos'è successo Io ho buttato un po' di Borosal No tu l'hai buttata anche qui Borosalco Aprite la porta Aprite la porta Allora Andiamo a telefonare A queste signore Che stanno lavorando E noi Come stanno lavorando È un lavoro Non le disturbiamo Noi sentiamo Se si può lavorare anche voi Allora Non ti preoccupare Comincio io Si si Comincio io Io posso intervenire Io posso intervenire No però Può intervenire ma dopo 30 secondi No eh Io voglio leccare No dai No vabbè Io me ne ho fatto Si è detto soft No 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 Eh Di fatto Dopo si fa una donna Si fa una donna E chiama una donna E' un bellissimo Manuela perfetto Senti va Però Emiliano Però zitti Dai Fatemi lavorare I primi 15 secondi Per lo Sì vabbè Però Allora Lo scopo di questa Leva la musica È farsi dire E col 100 euro a testa Ci danno Anche il caffè E ci fanno anche il caffè Silenzio Che è questa Monica Hai messo un Qual è il nome Topino Come fa Topino Ma questa Monica Hai messo un coratello Ma come Ma che cazzo Mi dice me la si chiama Cambia dai Non risponde Via via dai Se non risponde Vuol dire che non ha voglia di lavorare Magari Magari è lì sui pezzi Guarda Tu mi hai 16 nebriato Beh che l'ho fatto Dai Chiama questa qui Che sembra Una fettunda No Va per piacere Guarda le conosco tutte Questa è more Però Però Emi Ti prego 30 secondi Raulino Non sto Mi sento niente No va bene Però 30 secondi Lasciaci Io voglio Io voglio Ci siamo eh Lascia Chi c'è Come la c'è Nemmeno lei Dolce Bambolina Sì ma chi si chiama Di nome dolce Dolce Bambolina Ma che lavorano Di martedì Di martedì Lavorano sì Per forza Ma di venere di martedì Non si viene Nessi parte E vabbè Ma loro le ho Le ho cosa mia Ma zitto Zitto C'è Questo c'è Peccato Mi guarda più che l'altra Sì Ma la meglio è questa Non ti c'è picciola 30 secondi Sennò dopo ti disturbo Te l'ho letto Questa Dora Dora Io voglio Dora Mariemma Raul se non ti rispondi Mentre questa Chiamo io Sono io la serena La frega Speriamo che rispondano Speriamo che rispondano Mi chiami Dora A me Ci parlo io No ma Scusa Raul non ti rispondano Eh vabbè Chiediamo a me Non mi rispondano Eh le sono tutte a lavorare Eh che Pippo Ma non è possibile Non rispondano Se fanno questo Allora si vede Ma vorrebbe alla fiscale Ma se fai questo Voglio Dì Sennò che pubblicità è Oh allora Nicole Per te ero ad ora Per me Nicole Dai Ma io non dico niente Tanto che mi c'è tempo Ma perché scherzi C'è tempo C'è 5 minuti Mi garba frite a me Mi garba frite a me Per primo No Questa c'è Mi piacerà Nicole Secondo me non ti risponderemmo In questa Pronto Sì Nicole Sì Siamo amore Dove chiami Ciao amore Nicole Io mi chiamo Raul R-A-U-L Raul e Nicole Mi sarebbe essere anche Allora Senti Nicole Che sei libera Ma tu Dove chiami Io chiamo da Firenze Eh amore Io sono lontana Dove lontana Nicole Non me lo dire Sono venuta a Firenze apposta Io In dove sei te Io sono a Rovino A Rovigo Guarda io ho la macchina ultra veloce Scusa Aspetta ti posso chiedere una cosa Se tu sei a Rovigo Bisogna tu mi facciare sto piacere Perché Io pensavo tu fossi a Firenze Perché non sei a Firenze? Perché non volevo più essere lì Ok va bene Allora guarda ti chiedo una cosa Ti mando un bonifico Qualche cosa Mi dici due paroline Ma due paroline buone E mi piglio il fistione E si fa qualcosa così Tu mi dici due paroline Io ce l'ho già il fistione pronto Allora Aspetta Dimmi due o si Non mi ridere Mi si osa Mi si osa il fistione Allora Dimmi due paroline sole Dai Non posso mia venire a Rovigo Ti mando un bonifico Dimmi due paroline Ti fatti Ti fatti Ti do due parole buone Vai dimmene No Buonanotte No Così non ce la faccio Da rimbarzare No ti prego Da rimbarzare Tu mi asciupai il fistione Certo Dai tu mi fissi anche lei Mi chiamo Isabella A me è più piacere Va bene Ora sono caluta Però sono stato software Ma che sai Ho capito Io ho detto fistione Ho detto fistione Ma allora però io non ho capito Queste che fanno Eh no Ma perché il nostro tipo Ci dovrebbe trovare qualcuna Che le è nelle vicinanze Se me ne trovo Ho una di Rovigo Come fai a dirgli Venga a Rovigo stasera Ma perché gli dici Sono di Firenze Sono una sega Di che gli devo dire Ho capito Ma è che è La dico Isabella No Questa è la bellina Vero Vada ai culo Lasciamela a me Sì Questa è la bellina Questa è l'Ambrocco Ah bravo Bravo tu sei E io sono Bravo bravo Ti vuoi muovere Ricordati Tu c'hai dirigenti Dai ci stanno ascoltando Va bene Non ce lo ricordiamo Immaginati Gregorio Paolini Che sta ascoltando Bello Gregorio Paolini Quando ci chiamo A fare a gratis Sì Sempre sono un l'erifante Ma dopo la terza telefonata Direi basta Lo fanno anche Ora c'è l'uomo Per te Ora c'è l'ultima donna Pemiriano Siamo Ciao Tutto veloce così Però Tu mi fai venire Scusa C'ho questo difetto Nella pronuncia Un attimo Senti Vorrei sapere Se io vengo fra un quarto d'ora Che ci sei Sì Ecco C'ho questo difetto Non ti dà mia noia Vero Non ho capito niente Eh ho capito C'ho questo difetto Di pronuncia Non ti dà mia noia Vero Se fa così ogni tanto Perché ogni tanto Le sue mie mi diano Non va bene Scusa ma ero emozionato Quando mi emoziono Ce ne ho tanti Posso venire? Sì amore Quanto tu mi fai Igli? Cosa? Quanto tu mi fai Igli? 100 euro amore Con 100 euro E che tu mi fai E il caffè Me lo fai? Per eliminare E tutto quanto Che so I? I? Cosa? Eh cosa? Tu c'hai questa cosa? Eh no scusa Dai facciamo provare la serena Perché è un'esperienza È un'esperienza Devi provare Un uomo Ma no no Aiuto io Un uomo un uomo Pippo un uomo Ma i preliminari Con un uomo e lei Cazzo Magari Trattalo bene Guarda questa gente No ma Vai vai Questo nero Questo nero Vai 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 No scusa Pippo No state sbagliando Veloce veloce State sbagliando Non deve chiamare un uomo Deve chiamare una donna No no ecco c'è Dario Ma che no guarda Tu non conoscerai un Dario Come se avessi accettato Davvero grazie Ti si aiuta noi No 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 Davvero guardate No ma che chiami Ma non chiamare Ma non chiamare nessuno Ma che chiami Pippo mi dai detta a me Ma io chiamo chi mi pare a me Non è che devo chiamare questi Pippo la fai finita di fare Ma cazzo vuoi Mi chiami Valeria E ci parla la serena No 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 Mi dici cioè Cioè hai da fare Hai da fare Hai da fare Il compleanno Nostro Dei tuoi fratelli E ci vuoi regalare Valeria Dai No no Bea Bea No 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 Guarda è pop Ma veramente Ma secondo voi Ma non finiva sto programma Ma secondo voi Ma secondo voi Si dovrebbe finire Pippo l'ultima telefonata Dai muoviti No un taxi chiamaci Pippo veramente Dai Ecco la Bea Per finire eh Serena finissime A modo tuo No no Ecco Mi diamo zitto Io sto zitto No io non parlo Finisce a modo tuo Ma non esiste No A modo tuo Sì Ecco Guarda il culo c'è alla serena No mi senso Che Non risponda Via Guarda tuo culo Però Fanno un altro Veloce No allora Dai veloci Veloce e finito Veloce Pippo Cazzo Caroline vai Vai Caroline Maremma Zoppa Vai si finisce così In bellissima Sì Buonanotte Si vuoi more Ciao amore Quanto è molto Ciao amore Questa è bellina Insomma Le è un po' C'è un po' Dei gusti dell'olio Ma chi ora Questa non è bellina Guardate che faccia Ma sapete Non sapete L'ha detto lui è bellina Al topa show Al topa show Al topa show Al topa show Signore e signori Stasera Al topa show Dai Siamo Caroline Class Eccola Come siamo Pronto ciao Ciao Sei Caroline Sì sei Caroline Senti Caroline Ma tu domani mattina Cosa fai? Come che cosa fai? Io volevo sapere Se tu domani mattina Alle 9.25 Guardi uno mattina Come? Domani mattina Alle 9.25 Guardi uno mattina Sul Rai 1 Per favore Guardi che cosa? Uno mattina Sul Rai 1 Caroline Domani mattina Sul Rai 1 Devi guardare uno mattina Sì Me lo prometti Che lo guardi E lo dici anche alle tue amiche? Lo sai perché Lo sai perché lo deve guardare? No lo sai perché uno lo guarda Perché te l'anno scorso Hai in mare E ti ha trombato E mi fratello Mentre io ero ingessato Lei alle 9.25 Domattina Le ha fassi gli impacchi Perché la fa stasera Ciao Carolina Questa è il traliccio ragazzi Buonasera a tutti Ci vediamo domani mattina Ringraziamo Ringraziamo il nostro regista Pippo Ringraziamo tutta la direzione di Radio Rosa Ringraziamo tutto lo staff di Tele Regione Toscana Ma soprattutto ringraziamo la Serena Che stasera è stata il gioco Per la pazienza Ha chiuso la sua misera carriera Serena Magnanensi Domani mattina Cioè voi guardate 1 mattina alle 9.25 Facciamo la piadina domani mattina Bene ciao a tutti Buonanotte Ciao Buonanotte Ciao Il traliccio M'ha impiantato un traliccio Un giardino Vedessi come l'è bellino Dal traliccio ci passa la corrente Quando piove frisce si sente 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 La 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 Sente 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 La 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 M'ha impiantato un traliccio Un giardino Vedessi come l'è bellino Il progresso alle volte è un po' invadente Ma fa stare meglio la gente 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 La 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 Gente 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 La 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 Cia 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 La 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 Gente Si stava meglio prima Quando si stava peggio E c'erano i cavalli E no problemi di parcheggio Si stava meglio prima E questo l'è sicuro Si stava meglio prima Non prendeteci per il culo Oh serio E la carriera alla Serena Magnanensi Gliel'abbiamo rovinata Capito? E' ancora viva E' ancora viva ma per poco Dai E' proprio bellissima Grazie Bravissima Grazie Grazie.